Un altro caso, denti fissi con sistema bocca bionica, una paziente con i denti gialli su un lato, la stessa paziente con i denti bianchi sull'altro lato. Denti completamente in zirconio, linea superior. Questa era la situazione di partenza, denti completamente abrasi, consumati, proiettati in avanti, denti in metallo ceramica nella parte inferiore che hanno fatto consumare e distruggere lo smalto nella parte superiore, radici fuori dall'osso a causa della piorrea. Abbiamo eseguito le fotografie, la radiografia, quello che abbiamo visto è che c'era un'infezione in stadio avanzato, pochissimo osso residuo nella parte superiore, seni macellari molto espansi. Questo dopo la chirurgia, noti ancora gli ematomi sulle labbra, sulle guance, dopo qualche giorno questi vanno via. Abbiamo montato i provvisori sopra gli impianti e questa è la grafica 3D che dimostra il tipo di intervento che abbiamo eseguito. Abbiamo posizionato sei impianti nell'arcata superiore e sei nell'arcata inferiore. Su di questi abbiamo montato i denti provvisori. Fai attenzione perché ci sono alcuni dentisti che promuovono i denti fissi in 24 ore, che non mettono nel preventivo i denti definitivi, quelli vanno sempre messi. Quello che vedi è la protesi provvisoria dopo la chirurgia. Questi sono i denti invece provvisori, i denti come erano prima della chirurgia sul lato destro, tutti in espulsione. Abbiamo eseguito un design di come avremmo voluto ricreare la nuova dentatura. Una volta che questa è stata approvata, a quel punto abbiamo creato i denti definitivi. Quelle che vedi sono le arcate superior viste da vicino, nota l'iperrealismo di questi denti, la texture di superficie, l'effetto buccia d'arancia, le tonalità della gengiva artificiale, i denti non sono fatti tutti di un monocolore come delle piastrelle a mano, delle zone più giallo-oscuro, più chiaro, azzurrino. Lo stesso le gengive hanno delle zone rosa pallido, altre rosse quasi. o rosa scuro. Abbiamo aggiustato l'occlusione con l'intelligenza artificiale, testato i nuovi denti all'interno della bocca, mi dispiace che qua sia troppo chiara la foto, e questo è il risultato prima e dopo. La paziente con il sistema denti fissi, con il sistema bocca bionica, avrà la possibilità di avere una copia di backup dei suoi denti memorizzati in cloud. Queste forme sarà possibile richiamarle sui nostri server in caso di necessità.